Sempre e dovunque, anche il brutto ha i suoi aspetti affascinanti. È eccitante scoprirli laddove nessuno prima li ha notati. Così diceva Henri de Toulouse-Lautrec, pittore e litografo francese, in mostra a Palazzo Forti da domani fino al 3 settembre. Prodotta ad Artemisia, l'esposizione ritrae una Parigi tardo ottocentesca con i suoi bordelli, i boulevards, i cabarets e le maisons-closes. È in questo periodo che la città prende il nome di Villumière. I lampioni cominciano ad illuminare i boulevards e i vicoli di Montmartre, quartiere dove artisti e pittori vivono come bohemian, lasciandosi trascinare dai piaceri di droga, sesso e alcol. A farsi ambasciatore di queste estreme emozioni, Toulouse-Lautrec, uomo piccolo dai gesti grandi, esponente più alto del post-impressionismo. La tempesta artistica continua ad investire Verona, dunque, dopo i successi di Picasso e Tamara. 170 le opere pronte ad impressionare la città scaligera, tra manifesti, litografie, disegni, illustrazioni e acquerelli, ma anche video, per un racconto a tutto tondo del conte bohemian per eccellenza. Abbiamo trattato tutta la figura nel suo complesso di Toulouse-Lautrec, perché vede che Toulouse-Lautrec è veramente un personaggio inimitabile. Da una parte un aristocratico che discende da una delle più nobili famiglie feudali della Francia, dall'altra parte un uomo evidentemente segnato da una infermità fisica, che vive tra questi due poli, un privilegio dinastico e un ostacolo alla sua vita personale. Ho la statura del mio nome, amava ripetere, un metro e 54 che fanno poco la differenza se si considera lo sterminato patrimonio di opere che l'artista ha lasciato la storia, con la sua morte prematura a soli 36 anni.